Ires Piemonte presentata alla relazione annuale 2021, rigenerare il Piemonte, prospettive di cambiamento e politiche per il futuro, è il titolo. Rigenerare il Piemonte, prospettive di cambiamento e politiche per il futuro, questo è il titolo della relazione annuale 2021 sull'andamento socio-economico e territoriale della regione dall'ente di ricerca Ires Piemonte, Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte. Il rapporto è frutto del lavoro interdisciplinare dell'intero istituto, illustra lo stato del Piemonte esaminato secondo vari profili specialistici fra loro integrati. Ogni anno infatti la ricerca viene presentata nel mese di giugno. Ecco in proposito l'intervista Sergio Aimone, coordinatore della relazione annuale, tra le riflessioni proposte l'analisi sul calo del PIL portato dalla pandemia, il positivo ruolo del sistema sanitario piemontese, i riflessi dell'emergenza coronavirus sull'occupazione e il calo demografico. Nell'analisi proposta anche il ruolo dell'agroalimentare subalpino in tempo di pandemia, le logiche speculative sui prezzi delle materie prime che hanno un mercato globale e la sofferenza delle produzioni, quali la carne bovina che dipende dal mercato locale. Nel 2020 è noto che la pandemia ha lasciato nella nostra regione una traccia molto profonda, al di là degli aspetti strettamente sanitari che però hanno messo in risalto dall'alto una capacità di risposta molto generosa del sistema, ma anche delle lacune che hanno una ragione storica diciamo non tanto legata agli ultimi tempi ma che si sono ovviamente manifestate nel momento in cui la pandemia ha richiesto di disporre di servizi e di quantità di personale che non erano presenti nella nostra organizzazione attuale. E quindi abbiamo imparato due cose, il valore della sanità pubblica come servizio fondamentale per i cittadini che è stato ribadito ma anche avremo una serie di elementi, di suggerimenti per il futuro per riorganizzare il sistema sanitario. La pandemia ha lasciato anche una traccia molto profonda sull'economia e il calo del PIL nella nostra regione è stato paragonabile a quello della crisi del 2008. Anche se rispetto a quell'evento precedente adesso ci attendiamo un rimbalzo che magari non immediatamente andrà a coprire il vuoto lasciato dalla riduzione dell'economia nel 2020 ma che ci fa sperare in una ripresa solida anche perché arriveranno interventi pubblici molto sostanziosi. Sull'occupazione i dati ufficiali non mostrano ancora dei grossi danni perché tutto il lavoro dipendente è ancora in gran parte protetto diciamo così dalla cassa integrazione, dai divieti di licenziamento. Però è chiaro che quando verranno a mancare questi ammortizzatori sociali allora si potrà misurare il vero impatto occupazionale che per adesso ha colpito invece prevalentemente i lavoratori autonomi soprattutto nelle categorie dove si sono effettuate le chiusure obbligatorie. La pandemia ci ha anche lasciato con un calo demografico a causa sia dell'aumento dei decessi ovviamente legati alla malattia ma anche a una riduzione delle nascite e il fatto che il flusso migratorio si è arrestato. Quindi il timore del declino demografico della nostra regione diventa più corposo soprattutto la carenza di giovani in una società è sempre un elemento di debolezza. Tra i settori economici della nostra regione abbiamo avuto forti differenze nell'impatto della pandemia e il settore agricolo e agroalimentare nel complesso dopo un momento iniziale di difficoltà legato allo shock delle chiusure, del primo lockdown, alla difficoltà della logistica si è ripreso abbastanza bene e soprattutto ha mostrato il suo ruolo essenziale per la società, cioè quello di offrire sicurezza alimentare, cioè cibo fresco e sano disponibile nella tavola tutti i giorni nonostante una situazione estrema come quella che abbiamo attraversato. Questo è stato il grande ruolo svolto dall'agricoltura e dall'agroalimentare in questo periodo. Dal punto di vista dell'impatto economico sicuramente c'è stata una prima fase abbastanza negativa legata appunto alle difficoltà di scambi e alla chiusura di molti settori che sono clienti della nostra agricoltura. Successivamente le cose sono andate un po' meglio ma comunque solo quando ci sarà una completa riapertura della ristorazione sia in Italia che negli altri paesi e del turismo in generale i flussi commerciali torneranno al loro volume normale quindi anche i mercati si stabiliranno su un nuovo assetto più normale. C'è stato fatto rilevare che nei prezzi agricoli ci sono delle discrepanze, ad esempio i prezzi delle materie prime come il mais e la soia sono in crescita mentre ad esempio le produzioni locali come quelle della carne bovina sono in calo. E' una contraddizione solo apparente perché le materie prime hanno un mercato globale e che segue delle logiche in questo momento di tipo speculativo. C'è una fiammata dei prezzi di tutte le materie prime anche minerarie, anche energetiche legate all'aumento di domanda legato all'uscita dalla pandemia. Mentre i prezzi dei prodotti che hanno un mercato locale dipendono dalla domanda locale come nel caso della carne bovina che non è ancora ottimale proprio perché una parte dei canali sta ricominciando adesso a riaprire dopo mesi di chiusura. Ad esempio la nostra carne, anche quella di qualità, spesso va alla ristorazione. Finché la ristorazione non è tornata al 100% della sua capacità di lavoro è chiaro che c'è una penalizzazione della domanda e quindi dei prezzi dei prodotti locali di questo tipo.